a Livigno non solo sci ma anche shopping si sa ma sarà davvero così conveniente acquistare qui vediamo salve avete fatto shopping ma si qualcosa nei giorni scorsi si cosa avete acquistato ma di tutto a Livigno c'è tutto bello poi è pieno di negozi tra occhiali profumi e via via dove siete siamo di stradella in provincia di pavia siete venuti qui apposta per lo shopping si no no siamo venuti a fare la settimana bianca i bambini sciano e noi ci divertiamo noi ci rilassiamo per una settimana almeno ma sciano con i maestri sì sì sono al kinder club mentre loro sciano voi vi date allo shopping esatto anche perché Livigno lo permette è tra i pochi posti che ci sono che pensano anche le famiglie con i bambini ma venite spesso qui da quando da tre anni fa che abbiamo conosciuto che abbiamo conosciuto Livigno assolutamente sì veniamo d'estate d'inverno sì no è vero è vero è comodissima sia per la famiglia in generale nel senso come ti dicevo i bambini si divertono i genitori si rilassano sì sì la preferita è d'inverno d'estate ma penso tutte le stagioni abbiamo provato primavera estate in inverno abbiamo fatte tutte sì sì ma c'è convenienza per lo shopping perché c'è chi ci viene apposta per questo ma sì nel senso rispetto a dove abitiamo noi sì nel senso con la questione dell'iva anche sì assolutamente sì quindi notate un risparmio a livello pratico sì e poi c'è tanta scelta perché comunque sui negozi specializzati c'è molta scelta occhiali davvero uno non può non trovarli ecco bisognerebbe andare in 100 negozi per trovare la quantità ad esempio di questo negozio che stiamo andando adesso e comunque è bello ecco è bello quindi voi tutto l'anno risparmiate e poi venite qui a Livigno spendete tutto bravo tra l'altro ristoranti e negozi e sci sì sì più o meno sì dai il comune vi ringrazia allora grazie a voi grazie ciao buona giornata buongiorno buongiorno avete fatto spesa ma qualcosina proprio siete qui in vacanza da dove? Livorno per una settimana per una settimana e domenica finiamo bene siete tristi per questo? eh vabbè ci piace ci piace Livigno siete spesso qui? questo è il quarto anno? quarto anno sempre solo d'inverno anche d'estate? no per ora solo d'inverno perché sciate allora? sì a parte oggi che siamo un po' malandate però un po' di shopping l'avete fatto? sì qualche cosina l'avete acquistato? poca roba un cellulare ho preso io vabbè cellulare non mi sembra poco eh? un cellulare normale basilare proprio io per ora no per ora no provvederà oppure no? forse sì all'ultimo di solito mi scateno volevo chiedervi visto che è la quarta volta che venite qua cioè il quarto anno trovate una convenienza a livello economico per quanto riguarda lo shopping le cose costano meno realmente? sì sì abbiamo riscontrato che c'è un po' di differenza sì nel nel cellulare gli occhiali da sole che ha comprato mia nipote insomma un pochino è conveniente sì quindi conviene? c'è l'IVA e quindi sì per quanto si può è conveniente volevo sapere questo grazie mille buona giornata salve buongiorno da dove viene? da Olanda è qui in vacanza? sì claro per quanto? una settimana scia anche? eh no io io no ma il resto della famiglia sì ah quindi mentre la sua famiglia scia lei vengono a fare shopping no non solo shopping no andare a piedi e nelle montagne passeggiate quindi? sì passeggiare e non ha acquistato niente in questi giorni? scusa? non ha comprato niente? sì che cosa ci dica? attenzione all'automobile? attenzione? cosa? eh cosa come vodka è cheaper here e anche sweater di motolino una maglia una maglia di motolino e dopo no cioccolata e tutto quindi cose da mangiare soprattutto? sì 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 ok ma trova quindi qui più economico rispetto ad altri posti d'Italia? sì perché qui è duty free le cose più grandi di elettronica o qualche cosa più buono di comprare qui lei viene spesso qua a Livigno? no 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 la prima volta che viene qua? no la seconda volta la seconda volta sì quindi anche l'anno scorso comunque ha fatto acquisti approfittando di questo vantaggio? mio italiano è buono ma non tanto buono ok grazie mille buona vacanza ciao buongiorno 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 cosa ha acquistato? ce lo dice? roba di salumi e basta come? una bresaola e un salame ah quindi roba alimentare? alimentare sì ok nient'altro? basta nient'altro farà altri acquisti oppure no? approfittando dei prezzi qui a Livigno che sono più bassi? vediamo vediamo dai ma sono più bassi questi prezzi? insomma insomma? l'anno che viene qua a lei? sono 40 anni che vengo qua io ecco 40 anni che viene qua allora rispetto al passato ha notato una maggiore o un minore convenienza a livello di shopping? minore minore? di quanto minore? molto minore sì? molto prima veniva apposta per fare acquisti adesso no vengo su perché piace il paese non solo per acquisti logicamente una volta era molto più conveniente da dove viene? da Varese quindi viene spesso qui immagino 4-5 volte all'anno vengo qua quindi prima faceva grossi acquisti adesso invece è più limitato? mi limito e poi vengo solo per il posto e basta va bene grazie prego buongiorno va bene così davvero dimmi soltanto cosa hai comprato? dei guanti solo hai trovato una convenienza economica rispetto alla tua città? abbastanza sì oppure più o meno sono uguali i prezzi? va diciamo che queste qua non c'erano dove abito io dove abiti tu? abito in Svizzera ma è la prima volta che vieni a Livigno no? qualche volta qualche volta sì e vieni per sciare o per altro? sono venuto solo a fare un giretto oggi bel tempo voilà quindi quando venite qui tu e non so chi fate acquisti generalmente oppure no? vediamo anche a sciare o fare un giro camminare o così lo shopping non è il motivo principale? per forza no ok grazie ciao da dove venite? noi da Como da Como siete qui per qualche giorno? no no siamo una giornata e basta ah in giornata siete venuti a fare acquisti? no no abbiamo già fatto tutto 15 giorni fa siamo già stati qui a fare vacanze ah cioè avete fatto le vacanze e adesso siete tornati in giornata quindi vi è piaciuto molto suppo eh per necessità anche quanto signora? 20 anni ah però e quando venite qui a Livigno sciate e cosa fate? lui scia lui scia abbiamo cominciato da quando avevamo il figlio giovane e abbiamo, siamo venuti fa settimana bianca e dal 95 che veniamo e quando non sciate cosa fate? vi sono la signora non scia? passeggio passeggio shopping? non molto non sono portata ma notate, avete notato per quel poco che avete visto che i prezzi sono realmente inferiori rispetto ad altri posti? posso dirglielo perché non lo so, non prendiamo mai niente noi non acquistate mai niente? ma se sono per i profumi adesso non è che ci sia questa gran convenienza una volta c'erano l'elettronica, ma adesso ormai non è che quindi lei può fare un paragone in effetti rispetto agli anni precedenti? prima riscontrava una maggiore convenienza? sì, adesso noi quasi non prendiamo più niente invece prima lo faceva? eh prima c'era sempre quel cosino da prendere ma quando mi dice che sono cambiate le cose, in quale misura? c'è concorrenza giù, cioè i prezzi ormai anche da noi non è che trova delle offerte che magari qui non ci sono se vuoi prendere un telefonino che qui magari costa di più anche se è in offerta, mentre giù vanno i saldi, fanno sconti particolari cioè non è che io negozi ormai abbigliamento giù c'è nessuno a terra mentre una volta magari uno veniva a prendersi una maglietta e costava meno semplicemente per l'IVA ecco, ma ormai è finito il momento che si veniva su proprio a risparmiare se uno vuol prendersi una presa aula, ecco, tutto lì va bene, grazie, buona giornata buongiorno ah, no, adesso no signora l'ho vista con due buste in mano, quindi sicuramente ha fatto acquisti sì, ho fatto acquisti cosa ha comprato? guardi, ho comprato i giocattoli per mia figlia non facciamo pubblicità, non lo so poi ho comprato questi buonissimi snack sì foto? foto, le foto le foto ha comprato? sì, le foto di mia figlia perché ha fatto la scuola di sci e quindi ha fatto la gara così con la squadra e ecco qua ma è la prima volta che vieni a Livigno? no, questa è la terza volta che vengo a Livigno da dove, di dove è? io sono di Foligno, in provincia di Perugia sì, lo so dove è Foligno ah sì? sì, sono stata ah, bene allora, ma quindi la terza volta che vieni qui si dedica allo sci oppure no? sì, sì, sciamo tutti e allo shopping? anche, come vede beh, a Livigno si fa sci, ottimo sci e ottimo shopping direi ecco, perché volevo chiederle proprio questo c'è riscontro a livello pratico una convenienza quando fa acquisti qui a Livigno? costa realmente di meno il prodotto? ma, forse su alcuni su alcuni tipi, capi di abbigliamento forse qualcosa sì però, diciamo che cioè tutto questo risparmio poi non è che non l'ho notato ecco, quando ci sono per esempio gli sconti così sì, decisamente sì, chiaramente perché oltre al prezzo di Livigno, no? che, ecco però in ogni caso c'è molta scelta si acquista bene cioè noi insomma non andiamo mai via senza aver acquistato qualcosa quindi alla fine quindi comunque c'è scelta adesso al di là del prezzo comunque si acquista è molta scelta e comunque sì 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 la signora è d'accordo? sì, sono d'accordo io che non ho sciato ho fatto solo acquisti cosa ha acquistato? ci dica qualche capo firmato che era con un ottimo sconto tagliere d'armani borsa di trussardi queste cose che che piacciono alle donne il signore è il marito? il signore? allora prego si tappi le orecchie andiamo avanti cos'altro? profumi per me per mia figlia il caffè ho notato che che c'ha della convenienza sì ecco infatti di tutte le cose che ogni volta ne faccio una scorta perché in quel pubblicità occulta la occultiamo le capsule del caffè in effetti sì quindi di tutte le cose che ha acquistato soltanto il caffè l'ha trovato più economico rispetto alla società no tutto quello che ho acquistato aveva un prezzo veramente vantaggioso perché con i saldi il prezzo Livigno applicato il 50% è veramente conveniente bisogna soltanto essere fortunati e trovare il capo giusto la taglia giusta al momento giusto e io lo trovo sempre quindi mi raccomando a lei non si arrabbi perché è un investimento in fin dei conti è messo in cantiere quando sieni qui un budget destinato agli acquisti quando si dice investire in borsa brava va bene grazie mille buongiorno buongiorno da dove venite? da Genova e siete qui in vacanza per quanto? oggi ultimo giorno una settimana una settimana avete fatto? sì è per quello che è un po' triste sì sì avete sciato? noi no bambini bambini e papà ah quindi vi siete riposate avete scaricato bambini e mariti giusto? giustissimo e vi siete dedicati allo shopping stiamo ancora finendo di fare shopping cosa avete acquistato se posso chiedere? cioccolate bresaola quindi cibo cibo solo cibo la signora? anche io anche lei andiamo a comprare la bresaola ecco ma c'è una convenienza adesso seriamente a livello pratico economico conviene acquistare i quali vigno? costa meno? dipende cosa ecco che cosa? rispetto a in base alla sua esperienza tipo i salumi sì salumi sì le sigarette per la nonna ha fatto scorta? alcol ma non è che si possono prenderne tante perciò sì sì perché costa logico c'è la convenienza quanto costa meno? quello che prendo io qua l'ho pagata 30 giù costano 4,70 17 euro quindi ha risparmiato sì sì però più di una non si può prendere vabbè una ciascuno? eh sì mio marito non fuma più ok invece mi diceva quindi sigarette cibo e alcol sì anche l'alcol però non se ne possono portare più di un litro certo ci sono dei limiti dei limiti sì purtroppo per quello se non ci fossero quindi spenderebbe di più ne prenderebbe di più lei? sì da buona colizzata no scherzo dai no non diciamo questo poi da buona genovese quindi no e invece riguardo gli altri settori quindi abbigliamento abbigliamento qua soprattutto da sci che non trovo tanta convenienza no perché è tutto di marca quindi però torniamo sempre qua alla fine noi tutti gli anni sì da quanto tempo venite qua? da cinque anni di seguito sì va bene grazie mille allora buona giornata buongiorno buongiorno da dove viene? da Genova è qui in vacanza da quando? sarà un mese e mezzo più o meno no scherzo buon per lei è finita la settimana purtroppo domani ce ne ritorniamo è venuto per sciare? sì 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 sciamo bambina ha fatto il corso anche lei vero amore? ha fatto il corso di sci anche la cagnolina? sì 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 bene allora volevo sapere oltre a sciare quando viene qui fa acquisti? sì soprattutto generi alimentari sì bresaola perfetto alcolici? alcolici sì dai non tanto però non tanti a parte generi alimentari compra qualcos'altro? vestiti la roba da vestire nota una effettivamente un prezzo più economico rispetto alla società? ni ni cioè? ni anche a parte che Genova è abbastanza cara perché come forse tanti sanno è una delle città più care Genova vestiti mangiare però qua effettivamente qualcosa c'è da risparmiare quindi se dovesse quantizzare un 5% un 10% 10% 10% riguarda gli altri settori sì sicuramente sull'alimentare invece ovviamente di più immagino sì 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 quindi alla fine a lei conviene lo stesso acquistare qua sì che poi vabbè uno in vacanza non è che sta proprio a vedere proprio eh va bene d'accordo ci sono gli amici dietro che mi stanno riprendendo faccio un saluto a casa va bene grazie mille ciao ciao buongiorno buongiorno avete svaliggiato un negozio alle vigno praticamente cosa avete comprato? guardi di tutto cominciamo l'elenco no no allora profumi vestiti qualcosa di mangereccio peluche guardi di tutto praticamente praticamente siete venuti con le valigie vuote e le avete riempite certo certo veniamo qua dai parenti mandiamo le figlie a sciare e noi facciamo la spesa venite da dove? da Genova da Genova oggi un sacco di genovesi li abbiamo trovato bene eh perché costa meno i vigni allora eh qui volevo arrivare quindi costa meno quindi li anticipiamo sì quanto meno quanto meno ma vabbè a parte i classici prodotti come possono essere i superalcolici le sigarette o la benzina ma anche visto anche sui profumi sull'abbigliamento 10-20% a seconda c'è di differenza rispetto giù a Genova sì sicuramente concorda? sì 20% è buono è ottimo direi sì 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 poi sono bellissimi i posti con una giornata così meravigliosa quindi oggi è veramente bello il tempo sì ma voi sciate anche? no purtroppo noi compriamo e comprate e mangiamo non male da quanto tempo venite qua Livigno sono già con 4-5 anni ma poi abbiamo i parenti che sono anche qua di Livigno quindi vediamo volentieri più d'inverno che d'estate? più d'inverno più d'inverno sì 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 d'estate siamo venuti un paio di volte sì 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 adesso dovete tornare per il campionario estivo scusate dobbiamo far riprendere le carte di credito va bene grazie mille buona giornata signora buongiorno buongiorno mio istinto mi dice che ha acquistato un paio di scarpe mia figlia sì allora la figlia che ha acquistato le scarpe hai notato un risparmio reale rispetto alla tua città? sì erano in sconto quindi immagino che i saldi avessero l'impatto qual è la tua città? Zurigo ah vabbè allora grazie che più economico scusami anche senza saldo sarebbe stato lo stesso più economico era regalato ah venite spesso qui? un paio di volte siamo venuti un paio di volte e vi dedicate allo shopping o anche allo sci o altro? no di solito siamo quest'anno non siamo perché abbiamo una bambina sì ok in linea di massima rispetto alla vostra città anche se immagino già la risposta notate un risparmio negli acquisti quali vigno? sì sì di quanto? ma un 30% immagino più o meno invece rispetto ad altre città italiane se le avete visitate? intendo italiane perché io sono italiana quindi ho preso come paragone l'Italia con Zurigo molto di più ah quindi rispetto all'Italia al 30% rispetto a Zurigo quanto più o meno? credo il 50% va bene va bene grazie mille volevo sapere questo buona giornata signora che bel fiumino che ha con tutti i strassi sì sì per farmi vedere quando scio perché ecco nel caso così di non essere travolta ecco diciamo ecco bella idea non so sciare non so sciare come mai qui a Livigno? perché la bimba e mio marito sciano e noi ci aspoliamo io e la mia amica visto che Livigno offre veramente tante possibilità è la prima volta ma torneremo sicuramente quali sono queste opportunità che offre? le ciaspolate ecco una cosa che mi piacerebbe fare in effetti sono le automobiline nel ghiaccio che ho visto che c'è la pista poi c'è la mountain bike da neve insomma varie cose che anche per chi non scia anche per chi non scia è consigliatissimo per le famiglie in generale ma c'è ecco un altro aspetto molto bello la movida Livigno offre la possibilità di essere diciamo bordo pista avere lo shopping e poi dalle 15 in poi qui si usa insomma bere ballare quindi è molto viva divertirti noi veniamo dal mare da dove? siamo tra le 5 terre e la versiglia per cui le zone però la zona dove insomma in effetti amiamo divertirci quindi qui abbiamo ritrovato lo stesso clima anzi voi siete un po' più gentili dei liguri volendo proprio essere onesti non siamo di qua ma ci prendiamo allo stesso il complimento ma comunque le persone sono molto disponibili e piacevoli sì effettivamente voglio sapere lo shopping invece si è dedicato visto che me l'ha citato sì sì siamo stati in vari negozietti molto cari infatti ora stavamo facendo un piccolo giretto perché poi abbiamo la ciaspolata con Epi che ci porterà a vedere una cascata abbiamo detto anche il nome dell'insegnante dell'insegnante sì 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 noi siamo a Lampel Village ci siamo trovati benissimo è una struttura insomma e mi dica cosa che hai acquistato qui in questi giorni maglie maglie maglioni sì maglieria abbigliamento sì decisamente sì ha trovato più economici questi prodotti che hai acquistato ecco devo dire che partendo da una zona rispetto insomma a quella dove abitiamo noi spesso ci troviamo a trovare qualcosa di al limite meno caro perché la zona dove viviamo noi effettivamente non brilla per avere i prezzi bassi in generale per cui per le guine è più conveniente acquistare qui ma quantomeno non l'ho trovato caro ecco non l'ho trovato più caro insomma dei prezzi che vengono applicati giù da noi a meno di andare nei mercati ecco però insomma rispetto ad altre città italiane riesce a farmi un paragone ma sì diciamo che ad esempio rispetto a Madonna di Campiglio per fare un paragone sì il Trentino ha i suoi lati i suoi pregi ci mancherebbe per gli sciattori sicuramente magari può essere apprezzata di più però no Livigno trovo che sia un ottimo rapporto qualità prezzo per quello che offre per per la logistica da un punto di vista logistico lo trovo veramente molto molto apprezzabile e perché offre veramente è un po' la montagna mare cioè come si potrebbe non lo so la paragonerei alle desalpe almeno io per quello che ho visto le desalpe mi ricordo che insomma io l'avevo vissuta in estate però offre un parco divertente un sacco di attività le più le più disparate e quindi è bella la montagna quando quando è anche divertimento insomma perché va bene grazie mille allora buona giornata nonostante per alcuni turisti i prezzi non siano poi così convenienti rispetto a quelli del passato comunque lo shopping resta una grande attrattiva per il turista medio ad ogni modo i prezzi risultano essere più bassi rispetto a quelli di molte città italiane ed europee ci vediamo al prossimo appuntamento ciao 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 Grazie a tutti.